Bentornati alla diretta del martedì sui canali di Proitalia, un saluto dal sottoscritto e da Ludovico Vicino che come me fa parte della segreteria di Proitalia. Come vedete stasera è il nostro ospite Michelangelo Severnini, scrittore e regista, autore del docufilm da cui poi è stato tratto anche il libro L'Urlo, come vedete alla vostra destra, Schiavi in cambio di petrolio. La copertina è abbastanza esplicativa, si parlerà di Libia e d'altronde dicevamo poco prima della diretta che sembra di essere tornati in questi giorni indietro nel tempo, al 2018, perché vediamo delle scene che abbiamo visto con i nostri occhi circa 4 anni fa, anzi più di 4 anni fa. Quindi le ONG che premono sui porti italiani, la diatriba tra la retorica immigrazionista del fateli scendere porti aperti, dall'altra invece le promesse di pugno duro che invece poi vengono spesso appunto disattese. Ma nessuno che voglia veramente porsi una domanda su quello che succede a Monte, cioè in Libia, dall'altra parte del Mediterraneo. Quindi noi stasera cercheremo di capire le cause di questo problema, perché spesso ci si focalizza sugli effetti e appunto non sulle cause. Prima di tutto ovviamente saluto tutte le persone che ci stanno raggiungendo, ciao Massimiliano Cioffi da Pro Italia Milano, ciao Giacomo, ciao Testa Scura, ciao Gasperino Carbonaro e i nostri affezionato. Allora, mentre aspettiamo che arrivano un po' tutti quanti, io farei subito una domanda un po' più sul personale, Michelangelo, perché tu hai documentato quello che è successo, quello che sta succedendo in Libia. Intanto arrivano altri nostri conoscenti, ciao Sergio, e lo hai fatto insomma in barba a quello che spesso viene fatto invece dai nostri giornalisti, cioè pontificare a debita distanza da quello che sta accadendo. La domanda è appunto questa, ma come ti è venuto da fare questo viaggio in una terra che sappiamo essere dilaniata da una guerra civile, è una terra che andrebbe studiata perché sta venendo sfruttata e di cui, ripeto, sappiamo poco e nulla. Ma innanzitutto un saluto a voi, un saluto a chi ci sta seguendo, guarda, la risposta a questa domanda è molto più complicata di quanto tu possa immaginare. Perché? Perché in realtà qui devo svelare subito uno dei segreti del mio lavoro, perché io fisicamente fino a questo momento non sono mai stato in Libia. Cosa è successo? È successo che quattro anni fa ho trovato un metodo basato sulla geolocalizzazione che mi ha permesso di entrare in contatto potenzialmente con tutti coloro che usano internet dal suolo libico. Cioè io sceglievo la Libia e sul telefonino mi comparivano contatti con persone che stavano scrivendo dal suolo libico. Quella era l'unica certezza che io avesse a disposizione. Perché, come dicevi tu, fisicamente in Libia non si poteva andare, oppure, anzi, inizialmente tu mi chiedevi ma come mi è venuto. Mi è venuto proprio per questo motivo, perché io, tra l'altro, sono tornato nel 2018 in Italia dopo parecchi anni all'estero e vedevo proprio che i reportage dalla Libia erano chiaramente farlocchi e non riuscivo a capire effettivamente cosa stesse succedendo in Libia. Il fenomeno migratorio era esploso, era completamente cambiato rispetto a quando ancora stavo in Italia e pertanto non c'era modo di andare a Tripoli e di documentare soprattutto gli angoli più bui della Tripolitania, appunto i centri di detenzione, i ghetti africani, non c'era questa possibilità. L'unico modo per raccogliere questa narrazione era quello di lasciarla fare a chi era in mezzo a quelle situazioni. Grazie a internet e al fatto che la maggioranza dei cosiddetti migranti schiavi, ma anche i libici ovviamente, sono ormai tutti online, hanno profili social, è stato possibile mettermi in contatto e chiedere a loro di raccontare quello che stava succedendo, anche attraverso video, attraverso fotografie e soprattutto attraverso messaggi vocali dove avevano la possibilità di sviluppare quello che era il loro sentimento, quello che era, come dire, il racconto della situazione in cui si venivano a trovare. Quindi a differenza di altri posti, dello scenario internazionale dove in questo momento magari sotto tutela di questo, di quell'altro esercito è possibile in qualche modo andare sul campo, diciamo, a Tripoli non c'era questa possibilità. Quello che stava a Tripoli in questi anni è poco meno di uno stato in mano all'ISIS, alla fine sono anche questi gruppi armati, quindi non c'è veramente nessuno che poteva tutelarti, anzi andare a fare un certo tipo di lavoro non l'ha fatto nessuno proprio perché i rischi sarebbero stati troppo elevati. Quindi è stato un modo scaltro di raccogliere informazioni ma farlo in maniera, come dire, un po' laterale perché poi se uno si affida ai grandi organi di informazione di massa è ovvio che la visione che si ha della Libia è totalmente distorta. Oggi ci darà insomma le informazioni che ci aiuteranno a capire cosa realmente sta accadendo perché poi parlando con te di persona anch'io ho cambiato certe mie idee sulla questione libica che sono veramente, è una questione molto molto complessa e sparì alle carte, devo dire, sia a destra che a sinistra. Questa è una cosa interessante, nel senso che si può dire che sia da una parte che dall'altra non si vuole affrontare realmente il problema. Per tutta una serie di interessi che vanno dalla geopolitica alla mera propaganda. Ludovico, prima di entrare nell'argomento vero e proprio, io ti vorrei proprio fare questa domanda, è chiaro che questo problema che va avanti ormai almeno dal 2011, cioè da quella scellerata guerra, non lo si voglia realmente risolvere perché fa comodo a tanti, fa comodo anche e soprattutto dal punto di vista dell'agenda politica ma non solo. Questo dovrebbe un po' svegliare chi crede che ci sia in questo momento un reale scontro magari in ambito parlamentare tra chi vuole risolvere il problema e chi non vuole risolverlo? Sicuramente sì, nella misura in cui purtroppo questo elemento della dialettica pubblica scusate, per qualche ragione la telecamera ogni tanto si disattiva, dicevo, questo elemento nella dialettica pubblica serve ancora oggi a distinguere strettamente ciò che chiamiamo destra da ciò che chiamiamo sinistra. Poi nei fatti spesso e volentieri diventa specchietto per le allode diventa un elemento veramente secondario, la misura in cui si fa grandissima scena, grandissimo spettacolo per quanto riguarda lo sbarco di poche centinaia di migranti, ecco di nuovo la telecamera mi ha abbandonato, però poi nei fatti non si tiene conto di quello che è il grosso della mole dell'immigrazione clandestina, per esempio, che subisce il nostro paese, cioè attraverso piccole imbarcazioni e soprattutto via terra. Questo è un elemento di cui si parla pochissimo, attraverso rotte che non passano per il mare, eppure questo diventa un elemento del tutto secondario. Fa capire come in fin dei conti tutto sommato per l'ordinamento attuale non sia così dannosa la situazione, specialmente dico a livello europeo, in cui l'Italia diventa un hub di smistamento, chiamiamola così, di l'immigrazione che poi di fatto smista anche ben poco negli altri paesi, anzi, diciamo che è un percorso assolutamente gradito a chi siede a Bruxelles, quindi di fatto intoccabile per quella che è la nostra dialettica della classe politica locale. Ludo, ti va via ogni tanto la telecamera? Lo so, risolvo subito, perdonatemi, arrivo subito. Benissimo. Michelangelo, a questo punto passo la palla a te. Io vorrei, perché poi tu sei molto bravo nello spiegare quello che è realmente successo, io vorrei che facessimo un po' un passo indietro, le puntate precedenti, almeno dalla guerra appunto del 2011, dalla guerra a Gheddafi, da quel momento tante cose sono cambiate. Ecco, se uno dovesse capire appunto da dove proviene questo enorme problema dell'immigrazione, che è solamente una parte, una parte del problema complessivo, dovrebbe partire da quella guerra lì, da quella accelerata guerra. Io ricordo sempre una battuta di Crozza che disse alla Francia andrà il petrolio, a noi andranno i profughi. Non andò molto lontano dalla realtà. Ecco, cosa avvenne con quella guerra e quali sono state le conseguenze, insomma, fino a giorni nostri? Per aiutarci a capire, insomma, la sequenza di accadimenti. Certo, effettivamente noi ci siamo persi la Libia in questi ultimi undici anni, ce l'hanno proprio fatta scomparire da davanti agli occhi con un gioco di prestigio. Io sono convinto che sotto tutto questo ci sia un lavoro di propaganda, perché più la questione è importante e strategica per l'Italia, meno se ne doveva parlare. Ci siamo focalizzati a parlare di questi migranti che provano ad attraversare il mare, ma appunto non abbiamo capito cosa è successo in Libia. Per riassumere in estrema sintesi, penso che dopo il 2011, peraltro noi, come dici tu, ci ricordiamo benissimo cosa è successo nel 2011, però anche noi da lì in poi abbiamo considerato, vabbè, la Libia è andata, la Libia è distrutta. La Libia è un paese fatto di persone che in questi undici anni hanno cercato di preservare il loro paese a dispetto di tutte le cose che adesso vi racconterò. Quindi cominciamo dal 2014, quando si sono tenute le prime e uniche elezioni libere in Libia. Qual è stato il problema? Che la maggioranza uscita dalle urne non premiava la fratellanza musulmana. Come noi ben sappiamo, nei paesi dove si sono prodotte le cosiddette rivoluzioni arabe, la classe dirigente che è andata al potere è appunto quella espressa dalla fratellanza musulmana. Il discorso non era diverso, in Libia in particolare il controllo militare della capitale era in mano alla fratellanza musulmana e poi c'erano anche cellule dell'Isis sparse qua e là in tutto il paese. Nonostante questo si sono potute tenere queste elezioni che in qualche modo appunto hanno smentito il potere militare che vigeva fino a quel momento a Tripoli. Cosa è successo a quel punto? Che le milizie hanno impedito ai deputati di questo Parlamento di insediarsi a Tripoli. Quindi i deputati si sono costituiti a Tobruk nel profondo est del paese, ma questo non vuol dire che lì a Tobruk si sono fatti il loro Parlamento, quello è il Parlamento di tutti i libici che si è dovuto andare in un esilio interno, una sorta di esilio interno per sfuggire appunto alle milizie. Questo Parlamento rappresentava quindi un potere politico che stava a Tobruk e però a Tripoli c'era un potere militare. Come risolvere questa situazione? Alla fine del 2015 c'è stata una conferenza internazionale a Schirat in cui praticamente sono stati innanzitutto creati degli organi così dal nulla come per esempio appunto il Consiglio di Stato che è un organo dello Stato libico che però non è stato eletto, non passa dal consenso del popolo libico e a funzione appunto a Tripoli. Ma soprattutto fu paracadutato il Premier Sarraj che rimase in carica cinque anni ma non aveva il voto di fiducia del Parlamento. Era stato deciso dalla comunità internazionale che era stato paracadutato. Che è successo però parallelamente a tutti questi fatti? Dall'altra parte diciamo così soprattutto a Benghazi si andava costituendo l'esercito nazionale libico che è stato ufficialmente costituito con un voto del Parlamento di Tobruk nel marzo del 2015. L'esercito nazionale libico ha liberato di fatto tutta la Libia dalla presenza dell'Isis e delle milizie a eccezione della zona di Tripoli. Quindi Benghazi che era di fatto una roccaforte dell'Isis tra il 2014 e il 2016 è stata definitivamente liberata dall'esercito nazionale libico guidato dal Khalifa Haftar. Ovviamente queste notizie qui in Europa non sono nemmeno arrivate ovviamente. A quel punto l'esercito nazionale libico che ha il mandato del Parlamento che è stato votato dal popolo libico nell'aprile del 2019 ha pensato che fosse arrivato il momento di liberare anche la capitale della Libia e cioè Tripoli però sappiamo benissimo come è andata a finire diciamo quella campagna militare con l'intervento della Turchia che quindi ha preservato la capitale Tripoli e quindi questo modello diciamo di occupazione della capitale Tripoli e quindi da allora le posizioni sono queste c'è un governo illegittimo a Tripoli sostenuto dalla comunità internazionale ma che non ha la fiducia del Parlamento che controlla Tripoli e dintorni in pratica soltanto la costa occidentale e c'è tutto il resto della Libia che non solo è sotto il controllo dell'esercito nazionale libico ma è sotto controllo delle autorità e quindi del Parlamento di Tobruk e del governo Bashaga perché il Parlamento nel frattempo loro hanno votato il loro premier e il loro governo c'è un governo il problema è che non è riconosciuto dalla comunità internazionale quando le scorse settimane si parlava del cosiddetto rinnovo degli accordi con Italia-Libia ecco questo secondo me è proprio un modo di affrontare di parlare di usare i termini che tradisce una visione colonialista sulla faccenda libica perché quelli a cui il governo italiano ha mandato e continua a mandare soldi non sono la Libia non rappresentano la Libia sono un governo usurpatore e in questo modo quindi si conferisce questa autorevolezza a gruppi armati e milizie di fatto mentre dall'altra parte ci sono legittime autorità libiche che a quel punto se loro non sono la Libia vengono declassate non lo so a consigli di condominio o qualcosa di simile peraltro lo sappiamo benissimo come il Khalifa Haftar venga definito qui in Europa no quindi rinnegato signore della guerra in realtà l'esercito nazionale libico in questo momento è la è l'unica formazione legittima presente su tutto il territorio libico Matteo posso fare io una domanda a Michelangelo guarda ti volevo passare subito la parola quindi vai pure è perché è molto interessante quello che ci dici Michelangelo in particolare relazione alla figura di Haftar ora qui in Europa in particolare in Italia Haftar è stato raccontato un po come il terribile generale Haftar e come una sorta di uomo forte un despota un generale che con la forza delle armi e delle proprie milizie è riuscito a imporsi su una fetta diciamo così peraltro limitata secondo la narrazione del territorio libico quando invece sappiamo insomma che tra la Cirenaica e il Petsan e tutto quanto insomma prende il grosso il parlamento di Tobru che è l'esercito guidato da Haftar che gli fa riferimento copre il grosso del territorio ma insomma il problema però è che andando a guardare a suo tempo il profilo della figura di Haftar io intravidi diversi elementi che mi convinsero della bontà della narrazione dominante Haftar è stato un generale del Rais che in effetti ha avuto un ruolo importante perché a seguito se non sbaglio della guerra di fine anni Ottanta con il Chad della guerra detta insomma da Gheddafi contro il Chad eh ai tempi Haftar cercò di correggimi se sbaglio ordire un colpo di stato militare nei confronti ai danni insomma di Gheddafi finanziato dagli Stati Uniti salvo poi fallire e ritrovarsi negli Stati Uniti eh diciamo sotto tutela per una decina d'anni quando io lessi un po' gli elementi diciamo di questa storia intravidi in Haftar il tipico personaggio problematico che poi viene usato davvero come uomo forte da potenze per esempio in questo caso quelle eh francesi americane americane no in realtà ma inglesi e così via per eh assecondare i propri obiettivi per portare a casa i propri interessi e come come ce lo puoi dipingere perché in effetti questo profilo mal si sposa con la figura che invece descrivi tu. No hai ragione hai assolutamente ragione guarda l'esercito nazionale libico riceve sostegno internazionale dalla Russia dalla Siria e dall'Egitto qualche paese europeo ogni tanto una visita la fa per esempio Conte è stato più un paio di volte se non sbaglio a Benghazi anche Macron spesso ha incontrato Haftar Haftar peraltro ha ultimamente negli ultimi due anni ha avuto problemi di salute e quindi si è andato a curare a Parigi quindi immagino che non si è andato lì soltanto per però il discorso poi tutte le cose che tu hai detto riguardo la guerra rinciata sono vere e adesso non so eh quanto eh diciamo così eh ci fossero soltanto gli Stati Uniti dietro quel progetto e quanto lui poi si sia come dire effettivamente prestato a a una potenza straniera in quel momento però sicuramente era entrato in rotta di collisione con Gheddafi e quindi aveva dovuto abbandonare il paese a quel punto si è trasferito negli Stati Uniti peraltro lui ha doppia cittadinanza in questo momento anche la cittadinanza americana e quindi sicuramente è un personaggio complesso eh un personaggio con come dirlo la pelliccia sullo stomaco eh però in effetti io non ho un come dire una una particolare indole nei suoi confronti da un punto di vista personale eh io quando mi mi rivolgo diciamo la sua figura lo faccio pensando alla carica istituzionale che lui ha eh e questa è una cosa molto importante dei libici questa eh l'ho sentita e in particolare devi considerare che soprattutto nell'este e soprattutto a Benghazi c'è un eh un tributo di riconoscenza nei confronti della figura di eh Haftar che è illimitato perché loro stavano letteralmente con le bandiere dell'Isis sotto casa e quindi erano veramente sottoposti alla legge dell'Isis dalla Sharia per quasi due anni e poi sono stati liberati dall'intervento dell'esercito di Haftar che in una situazione in cui la Libia era rimasta senza un esercito e questo è stato il grosso problema di tanti paesi che hanno subito un attacco nato un'invasione pensiamo all'Iraq per esempio il fatto di non avere un esercito significa poi non poter eh far contare far valere la propria posizione politica al momento di un tavolo internazionale delle trattative e questo era chiarissimo perché se ad avere il controllo dei pozzi di petrolio libici c'erano i gruppi armati legati magari all'Isis che facevano sostanzialmente la stessa funzione che hanno fatto in Siria eh la voce dei libici non aveva più capitolo ecco Haftar ha capito questa cosa e eh i libici gli danno come dire illimitata riconoscenza perché eh proprio rimettendo in piedi l'esercito liberando e quindi restituendo la sicurezza ai cittadini libici eh liberandoli appunto dall'Isis e dagli altri gruppi armati ha consentito alle istituzioni quindi al Parlamento quindi alle municipalità delle città per esempio come Derna come Bengasi di ricostruirsi di risollevarsi di ritornare ad essere di fatto uno stato noi parliamo del caos libico un momento questo è Tripoli il resto della della Libia ormai da diversi anni vive in uno stato di diritto garantito dalla presenza dell'esercito nazionale libico la Libia che noi raccontiamo è la eh la Tripolitania e dintorni sostanzialmente che è una fetta grossa del paese ovviamente sia in termini di popolazione ma soprattutto per la presenza a Tripoli del del NOC del dell'ente di stato per la vendita del petrolio e soprattutto della banca nazionale libica che stanno a Tripoli quindi chiaramente Tripoli è una fetta importantissima del paese però il resto del paese grazie a Haftar si è eh si è ricostituito quindi questo è un merito storico che ehm che penso gli vada già ormai attribuito per non eh aggiungo l'ultima cosa per non eh dimenticarsi il fatto che comunque lui è si era candidato alle elezioni presidenziali lo scorso dicembre ed era dato sicuramente tra i primi tre eh quindi questo vuol dire che comunque il consenso dei libici è altissimo e probabilmente potrebbe anche addirittura diventare presidente in Libia una volta eh eletto dai dai cittadini e a a Tripoli stesso le persone con cui parlo soprattutto tra il duemila diciannove e duemila e venti quando ero in corso la campagna militare usavano questi termini stiamo aspettando la liberazione di Tripoli quindi questo è il l'opinione del grosso dei libici che hanno Krafta. Intanto è arrivato un bel commento di Veronica sono grata per il lavoro di Michelangelo ma sono anche sconsolata da come i media mainstream facciano impallidire Hollywood con le loro narrazioni e d'altronde Hollywood è un'arma a tutti gli effetti il cinema è un'arma sicuramente quindi Michelangelo eh ci stai dicendo che anche parlare di Tripolitania è sbagliato perché stiamo parlando proprio di Tripoli come eh è in clave o o si può dire che anche la Tripolitania sia una cosa a parte adesso rispetto al resto della Libia controllata o perlomeno a a fianco di di Haftar. Allora sai quelle ci sono delle caratteristiche specifiche proprio morfologiche in Libia per cui la costa è molto popolata ma subito dopo comincia il deserto e quindi per centinaia di chilometri non c'è magari niente a meno che ci siano delle delle oasi quindi la Tripolitania la possiamo vedere qui nel video è praticamente la costa che va da Misrata che sarebbe misurata fino a confine con la Tunisia. Questa è la parte di Libia esatto la parte di Libia tra l'altro più popolosa ovviamente ma quello di fatto è il il limite del controllo militare che hanno le milizie e quindi la 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 Turchia anche con la propria presenza militare. Tutto il resto della Libia che è praticamente più del 90 per cento è sotto il controllo del del dell'esercito nazionale libico. Assolutamente beh questo mi ricorda un po' anche la guerra del 1911 cioè esattamente cento anni prima quando effettivamente l'esercito italiano fondamentalmente controllava la parte nord della Libia perché il resto era la cosiddetta scatola di scatolone di sabbia però in effetti sì la Libia è dai tempi degli antichi romani che era abitata nel nord e il resto era gran parte era deserto. Allora ritornando alla questione di di Aftar poi piano piano ci rivicineremo anche la questione migranti perché poi alla fine è tutto tutto legato. Tu ci stai dicendo che non solo siamo dalla parte tra virgolette perdente nel senso che Aftar in questo momento ha dalla sua la maggior parte della Libia e dei libici ma anche dalla parte perdonami il termine perché un po' semplicistico ma sbagliata nel senso che Aftar eh si può considerare questo lancio questa provocazione un po' il più vicino discendente a quello che era stato Gheddafi cioè un personaggio con dietro il popolo libico? Sì per quanto chiaramente sono cambiati i tempi sono cambiate molte cose sicuramente eh tra le tante cose che ha fatto Aftar è stata quella anche di fatto di garantire l'incolumità di Saif Gheddafi in tutti questi anni perché nel momento in cui è uscito di prigione negli ultimi anni è rimasto in latitanza ma era ehm ma era protetto di fatto dai servizi segreti legati all'esercito di Aftar è ritornato poi come sappiamo sulla scena pubblica lo scorso novembre proprio per candidarsi alle elezioni però tutt'oggi conduce una vita come dire eh quasi in di semi clandestinità e quindi io so che comunque c'è questa questa eh questo spirito protettivo da parte di Aftar nei confronti di Saif Gheddafi però è anche vero che tra i tre principali candidati alle presidenziali delle elezioni che poi non si sono tenute lo scorso dicembre l'altro era Saif Gheddafi quindi a un certo punto loro diventeranno anche competitor peraltro però bisogna notare che entrambi vengono da quest'altra Libia non quella della Tripolitania e loro sono i due strafavoriti alla vittoria quindi come dire sicuramente si ritrovano nel fatto che eh ehm la Libia aveva bisogno di eh come dire ritorno sull'argomento di avere un esercito che garantisse il controllo dei dei pozzi di petrolio quella era è stata la svolta e Saif Gheddafi non può che appoggiare quello che Haftar ha fatto quindi sicuramente da questo punto di vista nel ripristino della sovranità delle istituzioni libiche sono assolutamente all'interno dello stesso solco dopodiché come dire da un lato c'è eh come dire lo spirito dei Gheddafiani dei sostenitori di Gheddafi che sono sempre eh numerosissimi dall'altra c'è lo spirito eh magari di quei libici che la rivoluzione tra virgolette l'hanno fatta nel senso che in strada a protestare ci sono scesi però poi a un certo punto si sono accorti che non erano loro i promessi sposi di quella rivoluzione ma era già tutto apparecchiato per la fratellanza musulmana se ne sono accorti tardi e a quel punto lì non gli è rimasto che aggrapparsi a Haftar Ludo immagino che avrai anche altre domande perché poi è è veramente una bellissima poi mi è piaciuto moltissimo cioè l'ho trovato molto interessante il il parallelismo con la Siria con quello che sta succedendo in Siria ovviamente con tutte le differenze del caso ma la presenza dei tagliagole eh jihadisti eh la presenza di un uomo forte che ha un esercito nazionale che permette al al alla nazione di sopravvivere all'attacco esterno e di conquistare i vari territori e poi anche la presenza di attori esterni la Russia e la Turchia che appunto stanno più da una parte che dall'altra si ritrova diciamo un un pattern si direbbe no che sia in Libia che in Siria d'altronde si potrebbe dire che stiamo assistendo alla stessa guerra guardandola ovviamente dall'alto ovviamente con differenze del caso vai Ludo assolutamente sono d'accordo perché hai anticipato la domanda che volevo e immaginavo sulla Turchia sulla Turchia sostanzialmente sul ruolo che gioca la Turchia anche nel fare da da diciamo da ponte nei confronti di tutte quelle ehm di quei fronti jihadisti che comunque combattono ad oggi attivamente in Libia così come in Siria e che sono un elemento di enorme instabilità per la capacità di questi popoli di autodeterminarsi e tracciare una traiettoria all'interno di un percorso seriamente istituzionale ecco chiamiamolo così in questo senso infatti la domanda era questa eh a livello di narrazione che ci è stata proposta Michelangelo eh noi abbiamo sentito dire che in qualche modo stare dalla parte del governo di Tripoli significava tutelare i nostri interessi nazionali perché Lenin aveva eh in questa a in questo asse con Tripoli e in particolare in questo asse con ai tempi eh al Serrage la garanzia per portare avanti i propri interessi in particolare legati all'estrazione di greggio in Libia questa cosa è vera e verosimilmente la risposta è no ovviamente e qual è il ruolo nella Turchia in questo no a questa domanda prego sì dunque allora ehm guarda peraltro io ho vissuto sei anni a Istanbul parlo il turco quindi quando si parla di Turchia come dire ho un ho uno scatto in più ehm ma il fatto è che come come dicevo nel 2011 eh la rivoluzione praticamente era stata già apparecchiata per la fratellanza musulmana la fratellanza musulmana è questa corrente del all'interno dell'islam politico che appunto si propone di ehm veicolare i princetti dell'islam all'interno di un processo democratico all'occidentale tra virgolette quindi Erdogan è stato eh uno in tempi moderni uno dei principali protagonisti di questa corrente e da lì eh diciamo così la Turchia ha fatto un po' da garante per tutte queste eh classi dominanti legate alla fratellanza musulmana che sono andati al potere in Tunisia ormai non ci sono più ma lo sono stati fino a due anni fa in Libia dove tuttora sono a Tripoli e in Egitto fino a che eh poi eh si ha ripreso il potere cacciando morsi ehm quindi il modello eh libico basato sulle milizie e basato sul saccheggio del petrolio eh di fatto è un modello eh nato dalla dalla mente perversa degli strateghi di politica estera turchi perché come dicevate voi lo stesso modello eh applicato in Siria la differenza che con la Siria hanno un confine terrestre qui il petrolio lo devono portare via mare ma praticamente il meccanismo lo stesso a noi italiani ci hanno venduto praticamente che avremmo potuto fare la stessa cosa io grossissimi sospetti perché come scrivo nel libro nel gennaio duemila un duemila dodici uno dei primi provvedimenti del governo Monti appena insediato con il corpo del colonnello ancora caldo è stato quello di liberalizzare il mercato degli idrocarburi in Italia significa che da quel da quel momento in poi si sono sono nate centinaia e centinaia di piccole compagnie in Italia che eh di fatto inconsapevolmente immagino hanno commercializzato questo petrolio saccheggiato che proveniva dal da Tripoli noi lo sappiamo perché questa cosa l'ha rivelata eh l'ex direttore dell'ente di stato libico per la vendita del petrolio ha denunciato nel duemila diciotto il quaranta per cento del petrolio libico viene sistematicamente eh trafugato dalle milizie e immesso illegalmente sui mercati di Turchia e Europa attraverso la triangolazione della mafia maltese peraltro nel duemila diciotto sempre ci fu una indagine della procura di Catania che dimostrò effettivamente come il il petrolio da Zawia che una città della costa eh tripolitana gestita dalle milizie transitava da Malta arrivava sulle coste siciliane e poi veniva venduta eh però eh arrivava con una come petrolio saudita perché poi la mafia maltese riusciva a cambiare il 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 come dire il il nome di di provenienza quindi in Italia arrivava come petrolio saudita quindi questo significa che eh l'Italia aveva bisogno in quel momento di dotarsi di un dispositivo legale ed economico e finanziario per commercializzare questo eh petrolio la coincidenza non può essere causa casuale questa del della liberalizzazione degli idrocarburi avvenuta nel gennaio duemiladodici a quel punto lì sì effettivamente eh la procura di Catania l'ha anche dimostrato da un punto di vista storico chiaramente quelli sono probabilmente pesci piccoli quelli che ci sono andati di mezzo legati alle famiglie mafiose di Gela però noi abbiamo un dato il 40 per cento del petrolio libico è sparito negli ultimi anni dove è andato secondo me ogni volta che si muove un governo europeo in favore di questo governo illegittimo a Tripoli questa potrebbe essere una risposta peraltro vabbè adesso chiaramente non vorrei allargare il discorso magari le cose ci arriviamo per tempo però eh io sostengo perché ci sono ormai quelle che considero delle prove che i fondi inviati eh dai governi europei in particolare dall'Italia al governo di Tripoli non siano legati ai migranti quanto piuttosto al al petrolio infatti lo denunciava una 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 donna libica che a capo della commissione ehm per la società civile in Libia un'intervista che ho raccolto lo scorso giugno e lei giustamente diceva ma come è possibile che noi siamo stati sempre tra uno dei primi paesi esportatori di petrolio e noi secondo quanto ci riferisce Tripoli da anni stiamo campando sui finanziamenti europei non è possibile non è credibile io mi rifiuto di credere che il bilancio dello Stato si regga sui finanziamenti europei ed effettivamente lei ha trovato un documento ufficiale del governo di Tripoli in cui sta scritto i fondi umanitari ricevuti dai governi europei non saranno spesi per eh i migranti ma saranno utilizzati per altre esigenze dello Stato allora sostenere le milizie per noi significava questo prima cosa seguire l'agenda turca sperando di avere qualche strapuntino quindi se il modello è questo a Tripoli noi bene che ci va arriviamo sempre secondi perché primi sono i turchi garantito adesso hanno pure l'esercito stanziato in in Tripolitania alla base di Aluatia che è la più grande base militare libica in mano all'esercito turco quindi loro sono sicuramente i primi eh ma poi c'è un altro fatto perché poi questo modello qui eh in mente dei turchi e degli italiani non ha fatto i conti con il popolo libico perché questa è la differenza l'altra differenza con la Siria perché mentre in Siria come dire la capitale e il 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 presidente è rimasta eh eh libera e difesa ma si sono persi i pozzi di petrolio qui in Libia al contrario la capitale è in mano agli occupanti diciamo così però i pozzi di petrolio sono in mano alla gente all'esercito nazionale libico e quindi è in mano alla gente quindi esattamente si può vedere benissimo da questa cartina quindi che succede che negli ultimi anni in maniera crescente i libici hanno cominciato a chiudere i pozzi di petrolio perché esiste una risoluzione internazionale delle Nazioni Unite che vieta la vendita di petrolio sul mercato internazionale alle autorità legittime di Tobruk quindi questi estraggono il petrolio ma per venderlo lo devono mandare a Tripoli quando arriva a Tripoli finisce sotto il controllo militare delle milizie queste ne mettono da parte 40 per cento quindi quando i libici hanno capito il gioco hanno cominciato a chiudere i pozzi di petrolio perché tanto non vedevano un dinaro comunque di quel petrolio e però in questo modo evitano di andare a finanziare un dispositivo militare che poi gli spara contro quindi alla fine noi abbiamo abbiamo perso comunque il lo scambio commerciale tra Italia Libia dal 2011 a oggi si è ridotto a un quarto da circa 20 miliardi a 5 miliardi l'anno e così come l'estrazione del petrolio è caduta di un terzo rispetto al petrolio che veniva estratto nel 2011 quindi secondo me in una in un momento di crisi energetica in Europa sono molto sorpreso che non si parli di queste cose in Italia il quadro che ne esce fuori è veramente dicevo all'inizio spariglia le carte perché poi l'Italia come come spesso accade si muove in ambito internazionale dandosi zappe sui piedi in maniera straordinaria perché a questo punto noi avremmo dovuto appoggiare il governo più vicino alle istanze popolari il governo che realmente diciamo ha in mano gran parte della Libia ed è sostenuto da gran parte dei libici mentre invece siamo andati ad appoggiare uno pseudo governo riconosciuto dalla cosiddetta comunità internazionale che poi quando si parla di comunità internazionale uno va a vedere la cartina si parla in gran parte di occidente più altri paesi ma insomma il resto del del globo sembra non far parte della comunità internazionale però così facendo abbiamo dato forza al progetto turco noi spesso parliamo di della Turchia del modo con cui si sta muovendo nel Mediterraneo e tu ci stai dando ancora una volta la prova di quanto profonda sia l'azione turca molto più di quanto sembri anche solo vedendola da dall'esterno io devo dire che questa è una visione d'insieme molto molto interessante e preoccupante da tanti punti di vista sono arrivate un po' di domande ovviamente su quello che stiamo dicendo c'è chi vuole riportare l'argomento ovviamente sulla questione ad esempio dei cosiddetti lager noi lager libici cristian davola ci scrive se si cosa ci sapete dire dei famigerati lager dove il mainstream ci dice che transitano i clandestini che vogliono imbarcarsi per l'europa in quale parte di libia sono situati e michelangelo sulla questione libica ci viene detto che la libia sia una sorta di grande lager diciamo un unico grande lager e quindi tutti i clandestini che partono dalla libia fuggono da questi lager no questa è una visione un po enormemente semplificata della questione ma in realtà cosa sta accadendo da quelle parti perché anche lì tu hai documentato una realtà ben distante da una certa narrazione i lager stanno fatalmente soltanto in tripolitania se vuoi rimettere la cartina ti l'indico stanno soltanto in quel pezzettino che va dal confine con la tunisia fino a misurata quindi in quella parte di costa lì soltanto stanno i lager peraltro un altro mito da sfatare è il numero di popolazione che viene che è contenuto in questi in questi lager il numero in circa di diecimila persone però sono settecentomila i migranti complessivamente presenti in tripolitania perché le reti mafiosi internazionali li trasferiscono da dal sud della libia fino alla tripolitania perché lì perché la tripolitania è diventata una zona franca di libero sfruttamento del nero africano quindi è lì che devono arrivare i migranti perché in realtà loro alla fine loro si propongono ovviamente di arrivare in europa ma il loro destino non è quello poi di proseguire il loro destino è quello di fermarsi lì a fare da schiavi per le milizie questo è il il progetto perverso delle milizie solo che gli la vendono attraverso le mafie africane come un percorso per poi raggiungere l'europa ma sono settecentomila ogni anno ne arrivano diecimila ventimila trentamila quarantamila sono giusto quelli che servono per tenere viva la speranza ma il grosso di loro rimane bloccato in tripolitania a fare da schiavi alle milizie e questa è la conseguenza del finanziamento militare che noi abbiamo dato alle milizie che noi lo facciamo in prima istanza per il saccheggio del petrolio libico ma a quel punto quando le milizie hanno il controllo totale della tripolitania quindi di vita e di morte su chiunque si eh hanno pensato bene di arrotondare diciamo eh mettendo in piedi una rete capillare come dicevo quelle mafie africane eh questo vuol dire che i ragazzini vengono adescati da eh loro connazionali nei paesi di origine che viene mostrare gli vengono mostrate le foto e i video dei salvataggi in mare e gli si dice vai in Libia che in tre quattro mesi riuscirai a raggiungere l'Europa quando arrivano in Libia si trovano ridotti in schiavitù e passano quattro cinque anni e ancora sono lì questo è il motivo per cui la maggioranza di loro quelli con cui sono in contatto stiamo parlando di più di un migliaio di contatti in quattro anni eh la maggioranza di loro sta chiedendo di essere riportata a casa però così come i libici cercano di non farli partire così anche non gli consentono di tornare a casa quindi non autorizzano i voli di rimpatrio proprio perché se si svuotasse la Tripolitania si fermerebbe l'economia ormai la Tripolitania è una zona fuori controllo quindi proprio la produzione il sistema produttivo è basato sul lavoro non retribuito dei neri africani proprio come se fosse una pagina della letteratura americana dell'ottocento tale e quale questi sono questo è il tenore del racconto che arriva dalla Libia in più c'è un altro fatto che allora non non si dava in America e cioè la tortura a scopo di estorsione significa sottoporre un ragazzo alla tortura chiamando la famiglia nel nel paese di origine e dicendo questo è vostro figlio se non mandate 4 mila euro lo finiamo qui sul posto in questo modo siccome per esempio la tortura a scopo di estorsione praticata dalla guardia costiera libica ogni volta che riporta a terra un migrante eh se da ogni migrante riescono a estorcere fino a 4 mila euro io ho fatto un calcolo ogni anno la guardia costiera libica che noi la chiamiamo così ma in realtà sarebbe da un lato la guardia costiera di Tripoli ma poi non è neanche una guardia costiera perché è infarcita di milizie e anche lì di criminali quindi quando arrivano a terra e gli e vengono sottoposti a tortura in un anno dovrebbero riuscire a fare addirittura quattro volte i soldi che il governo italiano dice di mandare alla guardia costiera libica questo ci prova un fatto che la guardia costiera si autofinanzia sulla pelle di migranti e non fa questo no per non far venire i migranti in Italia ma perché prenderli e riportarli in Libia li fa guadagnare soldi perché sono altri soldi che vanno a fare sulla pelle di di questi migranti quindi per rispondere alla domanda i centri di detenzione sono soltanto in Libia peraltro negli ultimi due anni gli ingressi in Libia sono praticamente crollati proprio perché le linee di transito dalla Libia dall'Africa subsahariana attraverso il sud della Libia comporta il passaggio attraverso zone ora controllate dall'esercito nazionale libico quindi per questo motivo gli ingressi negli ultimi anni sono sono crollati allora qui c'è subito una domanda che Ludo vuoi vuoi continuare tu perché sennò io mi leggo subito una cosa che ha scritto proprio Veronica però io ero curioso di un elemento diciamo così legato alla questione energetica in particolare perché Anpassam prima hai espresso una percentuale Michelangelo sulla riduzione dei volumi di scambio che abbiamo avuto con la Libia e in questo ti chiedo quindi a proposito di petrolio come è andato come si è intensificato non soltanto o meglio come è decresciuto il nostro interscambio in petrolio con la Libia nel corso degli ultimi anni e soprattutto quanto è aumentato quello turco se ti è noto insomma nel senso quanto ci è stato fatale essere schierati dalla parte di quello che direi almeno da un secolo e mezzo il nostro avversario naturale nel Mediterraneo perché le sfere di influenza della Turchia sono fatalmente le nostre cioè penso ai Balcani quindi la nostra la sponda adriatica insomma penso alla famosa quarta sponda quindi quella africana in particolare quella libica sono tutte aree dove l'attività turca negli ultimi anni dal punto di vista militare ed economico si è straordinariamente intensificata e come prima Matteo ci ricordava la guerra italo-turca di inizio novecento come la storia ci insegna insomma per noi schierarci da quella parte lì è demenziale semplicemente perché abbiamo interessi contrapposti legittimamente e quindi ti volevo chiedere proprio questo cioè ha prodotto proprio se vuoi uno spostamento dei flussi di greggio dall'Italia a favore della Turchia questa nostra questo nostro posizionamento cioè è dimostrabile in maniera quantitativa che anche guardando tutto questo processo con fare del tutto cinico e brutale ci abbiamo perso e ci abbiamo perso a favore del nostro competitor numero uno nel Mediterraneo? Ma il problema è che dobbiamo fare i conti con un 40% di petrolio scomparso quindi non si sa dove è andato a finire non si sa quanto ne è arrivato in Italia quanto ne è andato a finire in Libia noi possiamo fare soltanto i conti in casa nostra nel senso che nemmeno i conti a Tripoli sono chiari io ho parlato con diversi autorità di Bengasi e di Tobruk e loro mi hanno detto noi non abbiamo in mano le carte che hanno a Tripoli quindi nemmeno abbiamo il controllo sui conti della banca centrale tantomeno sulla compagnia per la vendita del petrolio quindi non sappiamo quanto ne è stato sottratto a chi è andato ci piacerebbe saperlo io ho detto anche a me piacerebbe saperlo tanto però finché non prendono Tripoli immagino e finché non prendono la banca centrale non lo sapremo mai però immagino che qualcuno sarà anche lì pronto a bruciare le carte perché penso che sia uno dei scandali più grandi di questi ultimi dieci anni perlomeno nel Mediterraneo se venisse alla luce eh sì sì decisamente decisamente sì Veronica ci scrive la Tripolitania quindi sarebbe il campo d'azione ideale per le ONG cioè a questo punto io vorrei capire il ruolo di queste ONG cioè fanno da cinghia di trasmissione perché se una parte di questi migranti viene bloccata letteralmente in Libia finisce per fare da schiava o peggio ancora vengono estorte le famiglie di questi migranti tramite quegli messaggi di cui parlavi prima una parte invece si avventura in mare aperto e queste ONG come agiscono? Da pull factor si potrebbe dire cioè chiamano a sé questi migranti eh sono in combutta a tuo avviso con il governo fantoccio di Tripoli questa grande zona franca in cui sembra veramente che ci sia il caos e nel caos come si sa eh governano i più forti i più violenti come sempre ecco io vorrei veramente eh in questo questo punto capire cosa so cosa fanno le ONG i cosiddetti angeli del mare sì chiaro dunque eh innanzitutto eh quello che ti dirò adesso non è farina del mio sacco ma è presente nelle ore e ore di messaggi vocali che sono stati mandati dalla Libia a a me al sottoscritto eh attraverso per esempio Whatsapp attraverso i i social in cui io ponevo proprio queste domande che tu mi rivolgi adesso quindi io dico che ogni tanto eh spesso qualcuno ha cercato di fare reduzione ad opinione delle cose che io racconto in realtà sono tutte presenti online basterebbe andarsi ad ascoltare i fatti che vengono raccontati dai ragazzi quindi mi pare che la cosa più chiara sull'argomento che abbiano detto è questa le ONG funzionano da esca innanzitutto perché contribuiscono a questa illusione tale per cui per tutti ci sia la possibilità di raggiungere l'Europa questa certezza viene inculcata nelle menti dei giovani ragazzini nei paesi di origine quando le mafie africane vuol dire il connazionale gente di cui loro si fidano gli promette un rapido passaggio verso l'Europa quindi il pull factor comincia a funzionare sin dal paese di origine quando poi si mettono in viaggio normalmente spendono mille duemila euro sono convinti che già sia sufficiente per arrivare in Europa però quando arrivano in Libia come vi dicevo vengono resi schiavi quindi ci mettono veramente poco a capire che sono state vittime di un raggiro quindi molti di loro anche in breve tempo capiscono che si sono messi nei guai e cercano e chiedono di tornare a casa purtroppo non lo possono fare sulle loro gambe perché c'è il deserto del Sahara da attraversare e non lo possono fare sulle loro gambe e nessuno gli offre il servizio di ritorno se non i voli di rimpatrio dell'OIM dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che negli ultimi 5 anni ha rimpatriato con voli gratuiti, volontari 60.000 di loro da Tripoli verso le capitali dei loro paesi di origine però io sono in contatto con molta più gente che ha fatto richiesta di essere rimpatriata e ancora è sul suolo libico perché le autorità di Tripoli non autorizzano questi voli di evacuazione questi voli di rimpatrio dunque poi qual è il discorso? il discorso è che c'è anche il pull factor poi al momento dell'imbarco innanzitutto la stragrande maggioranza dei migranti che si trovano in Libia come vi ho detto non solo ha capito di essere vittima di andare a giro vuole tornare a casa ma ha capito che imbarcarsi su quei gommoni non è una maniera barbara di viaggiare perché loro si pensavano che si imbarcavano e arrivavano e c'era qualcuno che li veniva a prendere ma quelli non sono imbarcazioni sono dei gommoni sgonfi gonfiati con aria calda che dopo qualche ora si raffredda quindi il gommone si sgonfia va a fondo senza lasciare traccia se nel frattempo non è intervenuto nessuno a tra virgolette salvarli quindi significa che nessuno di questi gommoni ha mai raggiunto da solo le coste italiane se non interviene qualcuno vanno a fondo più prima che poi diciamo quindi al momento di imbarcarsi cosa succede? che la maggioranza dei migranti in Libia è online quindi segue le pagine facebook delle ONG quindi quando vedono che la ONG lancia una campagna informativa perché sono tornati in mare con una nuova nave loro fanno la triangolazione perché sono tutti online almeno il mio lavoro dimostra questo che sono tutti online quindi chiamano il trafficante che contattano attraverso gruppi facebook eccetera e dicono ti risulta che la tal nave nei prossimi giorni sarà a largo delle coste libiche quando il trafficante dice sì mi risulta allora tutti sanno tutto e allora a quel punto fisicamente il migrante si consegna al trafficante che ha un capannone insomma un posto dove ne tiene 100-200 finché è il momento per caricarli sul gommone però avviene sempre una triangolazione ora anche la triangolazione quindi il rapporto diretto tra ONG e trafficanti è provato o non è provato chiaramente è una lunga discussione non esiste a oggi uno screenshot di una chat o una registrazione telefonica in cui un trafficante libico stia parlando con un membro dell'equipaggio di ONG a meno che non l'abbia la magistratura e ancora non l'abbia reso pubblico però ci sono molti racconti di migranti in Libia che si sono imbarcati conoscendo già le coordinate di dove la nave dell'ONG si sarebbe fatta trovare perché queste coordinate le ha date il trafficante insieme al Turaia che ha un telefono satellitare che loro accendono non appena escono dalle acque libiche per non farsi localizzare dai libici e la prima cosa che fanno è il numero di telefono, di allarme a phone delle altre ONG e per grazia di Dio anche della guardia costiera italiana quindi chiamano tutti, lanciano l'allarme ma verosimilmente l'ONG è lì vicino a meno che chi guida il gommone ovviamente non ci sono scafisti sono loro stessi che guidano i gommoni sbaglia perché non sa leggere la bussola non sa indirizzare il gommone e quindi la ONG si fa trovare in un posto questi vanno in tutt'altra direzione dopo qualche ora di autonomia il gommone va a fondo e buonanotte oppure come ho detto prima la terza ipotesi è che i libici riescano a intercettarli in mare e li riportino a terra peraltro questo lavoro di prendere i migranti in mare e riportarli a terra non lo fa soltanto la cosiddetta guardia costiera libica lo fanno anche i privati libici perché quello è un mercato tu lo sai se vai in mare e trovi un migrante e te lo porti a terra gli puoi scucire fino a 4.000 euro quindi è veramente la follia la follia più totale pensare che questo sia un modo di salvare le persone e questo è un modo per mettere le persone ancora più nei guai perché o finisci sotto tortura o finisci affogato in mare le percentuali normalmente sono queste su 10 circa il 5% annega e poi il restante per metà vengono presi dei libici e metà raggiungono le coste italiane questo è più o meno il rapporto tra le tre possibilità diciamo così a disposizione al contrario qual è il punto è che sul suolo libico quindi l'intripolitania ci sono 44.000 rifugiati significa che le Nazioni Unite hanno già concesso loro la protezione internazionale hanno un codice provengono da paesi secondo cui vale la protezione internazionale stiamo parlando di Eritrea di Sud Sudan Yemen Somalia ora io non voglio entrare nel merito di distinguere una nazionalità anziché di un'altra però questo è il fatto questi quindi hanno già diritto a un ricollocamento via aereo come tutti gli esseri umani dalla Libia verso un altro paese sicuro peraltro sono 44.000 noi negli ultimi mesi solo dall'Ucraina soltanto noi in Italia abbiamo ospitati più di 100.000 rifugiati profughi in pochi mesi qui si trattava di ridistribuire 44.000 persone nell'arco di 5 anni non tutte in Italia ma verso le principali capitali europee perché si poteva fare una politica di ridistribuzione a monte di questi 44.000 e quindi sarebbe spettato poche migliaia per ciascun paese gli altri sono arrivati in Libia dietro al raggiro questo significa che nel momento in cui gli si fa un discorso chiaro ascolta purtroppo non hai la possibilità di venire in Europa quindi la tua scelta è o rischiare la vita o rimanere qui a fare la schiavo o tornare a casa con un volo gratuito questi in stragrande maggioranza ti dicono torna a casa ho capito l'errore che ho fatto voglio tornare a casa il problema è che non li rimpatrino e poi succede anche che gente dopo 3-4 anni che sta lì in Libia e non è riuscito a tornare a casa per disperazione riesce a trovare il modo di imbarcarsi perché a quel punto lì la questione è fuggire e uscire dalla Libia quindi se trovi l'occasione di saltare sul gommone o su un'imbarcazione o in qualsiasi modo piuttosto io ho incontrato anche in Italia molti ragazzi me l'hanno detto perché anche i ragazzi che sono arrivati in Italia basta fargli le domande giuste le cose te le dicono che mi hanno detto io non volevo venire in Europa ma una volta che mi sono trovato in Libia l'unico modo per scappare a quel punto era provarla a rischiare in Italia una volta che è arrivato qua chiaramente ha cominciato tutta un'altra partita Ludo io volevo girare a Michelangelo una domanda interessante di Giacomo del Pioluogo che scrive la Meloni ha incontrato ieri il presidente egiziano Alzisi e pare entrambi abbiano convenuto sul sostenere le elezioni parlamentari e soprattutto presidenziali in Libia può essere che ci sia un cambio di atteggiamento sulla linea da seguire in Libia da parte del governo italiano? Michelangelo tu che ne dici? ma guarda io ho scritto un post proprio su questo tema ieri perché ho notato questo fatto perché la posizione dell'Occidente sulla Libia in questo momento è per le elezioni parlamentarie non per le presidenziali perché le elezioni nello scorso dicembre sono state annullate in Libia lo sanno anche i muri qual è il motivo perché Saif Gheddafi era dato a più del 50% quindi sarebbe diventato diretto diretto il prossimo presidente libico e quindi avrebbe fatto saltare tutta questa mafia legata alle milizie di Tripoli però chiaramente i libici si aspettano elezioni stanno chiedendo elezioni a gran voce quindi anche la Nato anche la comunità internazionale in qualche modo deve prima o poi concederle queste elezioni i libici vogliono le elezioni perché sanno che la maggioranza che ne uscirebbe disintegrerebbe le milizie ovviamente è la fratellanza musulmana che otterrebbero soltanto una manciata di voti però il punto l'idea nuova dell'Occidente è quello di tenere soltanto elezioni parlamentari e di aspettare per le presidenziali in modo che poi riescano a introdurre una variante alla Costituzione secondo cui poi il presidente debba essere eletto dal Parlamento cosa che ci fa pensare che poi lì in quel Parlamento non si capisce cosa succederà una volta chi verrà eletto chiaramente quindi i libici rigettono questa proposta vogliono contemporaneamente sia elezioni parlamentarie che presidenziali e questa a livello internazionale è la posizione della Russia e dell'Egitto e della Siria sulla Libia poi qualche altro paese della Lega Araba come l'Algeria che sta appoggiando l'Occidente in realtà dice altro quindi quando ho visto la dichiarazione della Meloni con Al-Sisi che dice parlamentari e presidenziali ho detto i casi sono due o la Meloni non ha ancora studiato il dossier quindi non sa quello che dice o forse l'Italia sta ipotizzando di cambiare linea sulla Libia al momento mi pare del tutto prematuro fare una lettura su questo però aggiungo un'altra notizia che arriva oggi pare che il Saldini e il governo italiano abbia deciso di riprendere quello che era uno dei punti contenuti nel vecchio accordo fatti da Berlusconi con Gheddafi e cioè la costruzione dell'autostrada costiera che dovrebbe andare dal confine con la Tunisia fino almeno a misurata per il momento allora questa è esattamente la zona costiera che attraversa la Tripolitania dunque sicuramente i libici tutti sarebbero contenti se l'Italia venisse a fare un'autostrada e finalmente a investire nelle infrastrutture però chiaramente l'autostrada si trova in Tripolitania quindi se il modello è quello dei lavori pubblici in Italia però all'ennesima potenza possiamo immaginare che potrebbe anche essere un modo per finanziare le milizie ultimamente sotto banco quindi è veramente prematuro capire comunque se seguiamo gli sviluppi intanto ti saluta Gerry Bavetta un saluto a Michelangelo che conosco personalmente grande grande persona anche lui peraltro chiedeva le ONG hanno un ruolo determinante sul traffico di migranti o anche senza ONG questo traffico sussiste perché leggevo che solo il 7% circa dei migranti arriva con le navi ONG beh a questo in fondo hai già risposto cioè fanno da pull factor cioè si mettono lì e quindi attirano rendono questa transumanza ancora più più grande nel senso che se uno sa che c'è la possibilità che qualcuno ti venga a raccogliere in mezzo al mare è ovvio che è incentivato e poi è facile immaginare che poi queste ONG lo abbiamo detto prima mancano degli screenshot ma sappiamo tramite triangolazione che questa cosa è probabile che accada più o più volte che ci siano delle comunicazioni tra l'ONG il trafficante di esseri umani lo scafista e probabilmente aggiungo ma questa ovviamente è un'ipotesi ancora non corroborata probabilmente poi lo sarà dai fatti dicevamo chi è che convince a monte queste persone a provare a raggiungere la Libia chiaro sono queste mafie ma perché dicevo prima che molto brevemente che queste mafie africane sono in combutta con le milizie perché mi è capitato un paio di anni fa di dover raccogliere 4.000 euro per mandarli per il riscatto di un ragazzo che era finito sotto tortura io ero in contatto con la famiglia a Khartoum in Sudan e c'è un fatto molto particolare perché questi tra l'altro con diversi mal di pancia perché stavamo mandando soldi alle milizie però poi ho pensato beh del resto anche il governo italiano manda soldi alle milizie libiche quindi non era molto comunque il discorso qual è? che i soldi non li abbiamo mandati in Libia li abbiamo mandati a Khartoum perché sono le mafie locali che ritirano i riscatti presso le famiglie dopodiché chiamano i compari libici e dicono hanno pagato poi immagino si dividano la somma 50 quindi per quello che le mafie africane adescono e hanno tutto l'interesse che quanti più ragazzi dal loro paese si mettano in marcia e raggiungano Tripoli perché una volta arrivati a Tripoli vengono sottoposti a tortura e loro possono riscuotere i soldi lì sul posto presso le famiglie di origine di questi paesi questo è il meccanismo perverso che è stato messo in piedi dalle milizie grazie all'impunità che hanno goduto per poter saccheggiare il petrolio libico questo è il fatto ritornando alla domanda di Jerry allora il 7% però bisogna spiegarlo così innanzitutto è fatto su tutti i migranti che entrano in Italia e innanzitutto ci sono anche quelli via terra da un lato però poi quelli che arrivano via mare ci sono anche quelli che arrivano dalla Tunisia quelli arrivano diretti con un barchino a Lampedusa e in questi ultimi due anni soprattutto nell'ultimo anno il numero è in crescita ne stanno arrivando molti di più dalla Tunisia che dalla Libia e la Tunisia è un altro paio di maniche perché innanzitutto molti di loro sono tunisini che quindi sanno guidare una barca e arrivano diretti a Lampedusa per non dire a volte direttamente in Sicilia però anche dalla Libia più di rado però a volte partono i barconi significa pescherecci grandi che normalmente sono in grado di raggiungere questi le coste italiane a quel punto lì l'intervento dell'ONG non è necessario però questi barconi che venivano utilizzati fino al 2012 13 in maniera praticamente esclusiva perché erano solo quelli che partivano dalla Libia dal 2013 14 hanno cominciato a partire i gommoni ma i gommoni partono perché ci sono le ONG perché quei gommoni da soli non arrivano le coste italiane quindi loro lo sanno che se non ci fosse se come dire il meccanismo non prevederebbe qualcuno lì a prenderli è un suicidio salire sui gommoni rimane un suicidio ovviamente perché la garanzia di arrivare in Italia è sotto il 50% quindi praticamente il lavoro che fanno le ONG è una sorta di istigazione al suicidio per questi ragazzi ma questo ripeto non è opinione mia queste cose sono state dette dai migranti in Libia direi che la risposta è stata più che soddisfacetta e completa Ludo ne esce fuori un quadro molto molto grave a me piacerebbe poi con Michelangelo se avrà voglia dar vita magari a una bella infografica che spieghi perché poi siamo partiti dalla Libia anzi non siamo partiti dalla Libia da dove siamo partiti da ogni parte d'Europa e dell'Africa perché veramente è una linea che unisce l'Africa profonda fino al cuore dell'Europa perché ci sono tanti e tali interessi interconnessi fino ad arrivare poi alla Turchia alla Russia cioè veramente e è chiara una cosa che in pochi hanno interesse che questa roba finisca possiamo dirlo in maniera proprio senza girarci tanto intorno e quindi magari dividere questa questione semplicemente in porti chiusi e porti aperti è veramente una butade puramente elettorale e propagandistica Ludo avevi altre domande immagino da porre a Michelangelo mi riaggancio all'ultima cosa che hai detto per proporre un'ultima domanda a Michelangelo almeno da parte mia cioè dici bene perché come abbiamo detto anche nell'introduzione in effetti gli interessi perché questo flusso di migranti cessi davvero purtroppo non ci sono negli ambienti che contano per le ragioni che abbiamo detto tante volte in fin dei conti l'idea di fare dell'Italia un hub ricettivo di migranti si sposa molto bene con l'idea di fare dell'Italia un paese sempre più deindustrializzato in cui non più i lavoratori ma la forza lavoro si occupa di mansioni a sempre minor valore aggiunto e quindi è perfettamente naturale in un certo senso noi esportiamo giovani formati che vanno a contribuire all'apparato produttivo all'apparato industriale di altri paesi alla ricerca all'accademia tutto quello che volete voi e al contempo importiamo mano d'opera sempre dal punto di vista di chi per esempio si è da Bruxelles che tipicamente ha una bassissima formazione che quindi può fare lavori in campi diciamo bassissimo lavoro aggiunto per essere particolarmente generosi nella definizione quindi è difficilissimo immaginare come questa configurazione dell'Italia all'interno diciamo così del perimetro delle istituzioni europee possa cambiare in effetti ma qui viene la domanda Michelangelo supponendo che l'Italia riesca a riprendere le redini del proprio destino anzi immaginiamo che oggi l'Italia con un schiocco di dita per magia sia davvero di nuovo capace di autodeterminarsi almeno diciamo così nei limiti del realismo non immagino un'Italia quindi addirittura fuori dall'alleanza atlantica in cui non ci sono nemmeno più le basi militari americani certo sarebbe bello ma è abbastanza inverosimile però un'Italia che almeno riesce a orientarsi quantomeno nel mondo riesce a cercare una sua collocazione non dir tutto disfunzionare i suoi interessi cosa dovrebbe fare in Libia? Infatti non sono pochi coloro che l'hanno chiesto quale potrebbe essere una politica estera diversa? Guarda io penso che il difficile sia riuscire ad avere in mano la mappa della Libia di quello che sta succedendo io credo di esserci abbastanza riuscito dopo quattro anni di ricerca una volta che hai in mano questa mappa capire qual è la cosa da fare non è poi difficile voglio dire ci sono delle autorità legittime che in questo momento hanno un controllo del petrolio e che non lo possono immettere sul mercato internazionale non lo possono vendere ti faccio questo esempio alcune settimane fa sono stato a Mazzara del Vallo ho parlato con i pescatori con gli armatori di Mazzara mi hanno detto l'80% dei peschereci d'agosto sono in porto e non escono per i costi eccessivi del gasolio però loro giustamente sono in contatto con i loro colleghi libici e sanno benissimo che questi stanno battendo il mare sopra e sotto perché hanno petrolio sotto costo perché non potendolo vendere e non mandandoglielo a Tripoli quindi hanno petrolio in eccesso che ce l'hanno lì a casa e l'unica cosa che possono farlo è quello appunto di utilizzarlo pertanto cosa hanno fatto hanno chiesto nei mesi scorsi al governo passato la possibilità di andare loro di persona con i loro pescherici a Bengasi a rifornirsi di gasolio perché non hanno chiesto al governo italiano di procurarsi quel petrolio quel gasolio di metterglielo a disposizione no hanno detto andiamo noi a prendercelo a Bengasi chiaramente il governo italiano ha risposto non si può fare perché c'è una risoluzione internazionale delle Nazioni Unite che impedisce alle autorità dell'est della Turchia di vendere indipendentemente il petrolio solo che quelle a Tripoli non glielo vogliono più mandare il petrolio come se ne esce allora secondo me tra tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite che sono state violate in quest'ultimo secolo questa è una delle prime che andrebbe violata domani già domani e dovremmo come dire andare lì con le nostre navi a Bengasi o a Sirte dove ci sono i terminali caricarci il petrolio fare accordi con le legittime autorità quindi col Parlamento di Tobruk con il governo Basciaga che adesso è in distanza appunto proprio a Sirte e quindi anzi io francamente ogni tanto mi faccio dei sogni se nella scorsa campagna elettorale ci fosse stata una compagine politica che avrebbe che avesse portato insomma ai cittadini la possibilità di poter avere già un precontrato con le autorità di Bengasi e quindi di poter abbassare di un terzo forse della metà le bollette in questo momento che cosa sarebbe successo il problema è che però ci vuole coraggio per anche soltanto nominarle questo tipo di politiche perché poi tutti coloro che nella storia recente d'Italia hanno cercato di costruire una politica estera italiana al di fuori di quella che l'agenda NATO hanno tutti fatto una brutta fine lo sappiamo benissimo però quello che dovremmo fare è questo anche perché a Tripoli come vi ho detto uno arriviamo sempre secondi e prima ha messo se tutto va bene arriviamo secondi e prima è la Turchia abbiamo perso tre quarti dello scambio commerciale in più abbiamo questo problema chiaramente non soltanto dei migranti che arrivano in Italia ma questo casino delle persone che muoiono in maniera barbara in mezzo al mare cioè è una follia è una follia quello che sta succedendo tra Italia e Libia in questi anni è il risultato da un lato delle politiche ovviamente criminali della NATO ma anche della totale inconsistenza della politica italiana sì devo dire come chiusa direi che è perfetta poi qualche giorno fa abbiamo anche commemorato la scomparsa di Enrico Mattei che probabilmente di fronte a una situazione simile avrebbe reagito e agito in maniera di gran lunga diversa e dal tondo lui sapeva in quanto stratega patriota illuminato italiano sapeva che la questione mediterranea e nordafricana per l'Italia era centrale totalmente centrale intanto sono arrivando dei messaggi di complimenti di ringraziamento per questa per questa bella intervista vada Michelangelo è stata veramente una hai dato un quadro che per quanto desolante preoccupante è completo finalmente è completo e devo dire come ho detto già dall'inizio un po' fa saltare in aria un castello di carte che viene retto sia da destra che da sinistra ecco e poi non si riesce ad affrontare realmente il problema io ovviamente rinnovo l'invito a tutti quanti a mettere le mani sul libro l'urlo schiavi in cambio di petrolio di Michelangelo Severnini l'antidiplomatico edizioni dei nostri amici dell'antidiplomatico questo libro è tratto dal docufilm l'urlo che poi ecco anche lì avremmo potuto parlare del fatto che sia stato boicottato letteralmente ovunque non a caso non a caso anticipiamo che noi come Pro Italia faremo in modo di proiettare questo questo docufilm proprio per permettere a più persone di vederlo e comunque ecco chi può io ho la fortuna insomma questo libro me lo hai consegnato tu stesso è stato assolutamente un onore mettete le mani su questo su questo bellissimo libro lo si trova online anche abbastanza facilmente ho visto Michelangelo quindi non dovrebbero esserci problemi ripeto antidiplomatico edizioni l'urlo di Michelangelo Severnini Michelangelo io ti ringrazio veramente per questa per questa intervista complimenti per il tuo lavoro grazie da quello della stragrande maggioranza dei giornalisti italiani io ringrazio voi comunque perché bisogna anche avere la fortuna di trovare interlocutori pronti purtroppo io queste cose le sto urlando da quattro anni ma non molti sono stati pronti ad ascoltare e a capire la portata secondo me delle cose che sono emerse fatalmente in questi quattro anni di ricerca e voi lo siete stati quindi vi ringrazio per avermi dato questa possibilità grazie a te Michelangelo davvero un abbraccio grazie e speriamo di riaverti presto con noi perché insomma c'è ancora tanto di cui parlare abbiamo solo aperto un po' il taso di Pandora sulla questione grazie mille Michelangelo allora alla prossima alla prossima ciao 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 beh insomma è stata è stata veramente una bella bella puntata e peraltro eh annuncio annuncio che domani a Roma per chi sarà interessato eh eh scusate ho tolto Ludovico così a buffo eh chi sarà interessato ci sarà questo evento alla libreria ora felix via reggio emilia ottantanove ripeto a Roma domani alle ore sei parleremo della guerra in Ucraina alle radici della guerra saranno ospiti Max Bonelli autore del libro eh Antimaidan Paolo Zanetov storico il generale Paolo Capitini che molti già conoscono esperto in difesa e il nostro ovviamente segretario di Roma Gaetan Gil Gallizzi ci sarò anch'io farò un salto e sarà un modo anche qui per parlare di un alto fronte aperto caldissimo cioè quello ucraino capire quali sono le cause di questo conflitto e poi anche lì Ludovico sarà facile collegare anche quello che sta succedendo in Libia perché abbiamo detto prima la Russia è uno dei dei protagonisti anche di quello che sta accadendo in Libia e c'era peraltro una domanda interessante ora non so se abbiamo il tempo vabbè 22 e 18 forse il tempo ce l'abbiamo perché c'era chi aveva chiesto eccolo qua sempre Giacomo del più luogo che stasera era on fire ma se Erdogan appoggia le milizie di Tripoli contrappotendosi ad Aftar che viene sostenuto dai russi questo non crea un contrasto tra Turchia e Russia e se sì questo potrebbe ripercuotersi sulla situazione geopolitica del fronte ucraina NATO questo è un classico diciamo che la risposta è totalmente sì ma non è un problema nel senso che per le potenze che si percepiscono potenze è assolutamente normale avere rapporti di alleanza su un fronte e di ostilità su un altro fronte è assolutamente all'ordine del giorno guardiamo anche per esempio la situazione di Erdogan e in generale della Turchia come grande forza di mediazione all'interno del conflitto ucraino il motivo per cui la Turchia si pone con insistenza come mediatore è che è il più interessato a frenare quello che sta succedendo lì in Ucraina nella misura in cui se davvero l'avanzata russa dovesse permettere di completare quella che un tempo era la nuova Russia quindi a riuscire ad arrivare addirittura a Odessa farebbe del Mar Nero un mare sostanzialmente suddiviso tra russi e turchi e questa fine diciamo così di una presenza americana o comunque occidentale di una certa rilevanza nel Mar Nero produrrebbe un'inevitabile tensione successiva tra russi e turchi cosa che peraltro c'è già per esempio in Siria come è noto i turchi sono tutt'altro che alleati di Assad nel conflitto siriano mentre invece i russi hanno dato dimostrazione di capacità militare proprio in Siria al fianco delle forze dell'esercito di Assad quindi in linea di massima potremmo menzionare anche altri terreni dove si trovano in aperta in aperta ostilità insomma per esempio in Iraq in Iraq e tutte le zone in cui diciamo c'è un pezzo di Kurdistan guardo un po' i turchi stanno dalla parte opposta rispetto rispetto ai russi quindi in linea di massima non è strano che due grandi potenze che hanno leader che si stringono la mano poi di fatto siano ostili fra di loro in tantissimi in tantissimi dossier si può dire Ludo che questa storia anche libica dimostri ancora una volta quanto sia fallace il tentativo di dividere in due sempre una dicotomia perfetta quando si parla di geopolitica è facile come hai detto tu vedere fronti contrapposti che si mischiano a vicenda cioè Turchia e Russia si vanno a sbattere una contro l'altra spesso e volentieri però poi quando si tratta di difendere i propri interessi allora Erdogan va da Putin si mette d'accordo per la fornitura di gas addirittura Ankara diventa un hub di smistamento di gas poi verso il resto verso il resto d'Europa cioè è una normalità questa assolutamente è proprio questo il punto si fanno la guerra dappertutto o in tantissimi posti ma poi Putin dice testualmente a proposito proprio di gas quando c'è stato l'incontro per lanciare il progetto di questo grande hub del gas in Turchia dice Erdogan e la Turchia sono il nostro alleato più leale all'anima ecco posso dire una cosa posso dire una cosa per quanto ovviamente la Turchia non mi sia minimamente simpatica e da italiano io la veda come un avversario dal punto di vista geopolitico è quello che io vorrei vedere da parte della mia classe dirigente questa capacità strategica non nello schierarsi sempre contro i propri interessi in cui siamo effettivamente maestri ma nel saper tenere aperti oggi si dice più forni che poi è un modo di dire che io non ho mai capito tenere aperti più forni non lo so la geopolitica della mulino bianco non ho mai capito questa cosa però ecco appunto è un modo di fare realistico e intelligente a questo punto la Turchia sta aumentando la propria influenza ma lo sta facendo certo andando contro la Russia ma allo stesso tempo tenendosi in rapporto con essa mentre invece noi stiamo andando lo dicevamo prima anzi vi invito tutti voi ad andare a ascoltare il bellissimo podcast di Ludovico l'abbiamo pubblicato sia sul canale YouTube che sul nostro sito la sezione podcast a proposito andate sul nostro sito www.proitalia.org c'è la sezione podcast potete ascoltarli in media è dedicato proprio all'azione della Meloni riguardo la questione ucraina cioè noi ci schieriamo apertamente dalla parte dello Ziosem quindi armi all'Ucraina assolutamente dalla parte di Kiev dalla parte di Zelensky ma in cambio di cosa proprio per essere proprio brutali in cambio di cosa se uno va a vedere poi sui piatti della bilancia in cambio di che destoccaggio di gas cioè di che cosa effettivamente questo Ludovico è una questione abbastanza importante questa è una tendenza che purtroppo vediamo in Italia non da poco dai tempi di Ludovico il Moro del mio monimo insomma ad appoggiarsi per perseguire obiettivi interni all'alleato esterno è l'unico tornaconto diciamo che c'è da questa operazione di schierare l'Italia da parte di Fratelli d'Italia del governo Meloni insomma sul fronte ultraatlantista più russofobo che più russofobo non si può è il fatto di poter sedere a Palazzo Chici è il fatto di poter occupare con una relativa serenità delle posizioni di governo però diciamo così è un tornaconto che riguarda un partito o meglio una parte della nostra della nostra classe politica è il paese per questo diciamo che oggi noi denunciamo la carenza di statisti perché nel migliore dei casi abbiamo uomini di potere o donne di potere in questo caso che appunto valutano in nome della propria ambizione di svendere tranquillamente l'interesse nazionale o comunque di adottare una strategia che semplicemente non lo contempla ecco esatto guarda ti lancio l'ultima 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 questione non abbiamo il tempo di approfondirla sicuramente ne potremo parlare dalla prossima puntata in queste ore stanno avvenendo le elezioni di midterm dall'altra parte dell'oceano e in molti dico esatto che è prossima settimana scusate no prossima settimana facciamo la diretta su questi ah si si ho capito le elezioni di midterm e quindi alcuni dicono che di fronte a una probabile vittoria dei repubblicani questo avvalanga possa andare ad influire nella nella politica estera statunitense e dunque di rimando nella politica estera meloniana abbiamo detto più volte però gli Stati Uniti perseguono una traiettoria che è quella di un impero poi certo ci sono non possiamo negare che ci siano delle differenze da punto di vista della della politica trampiana o quella di Biden ad esempio è ovvio che quella di Trump è di gran lunga meno interventista però è vero che determinate guerre per procura si continuano se va azzoppato il nemico però ecco io lascerei aperta anche l'ipotesi che si possano magari possono arrivare delle secchiate d'acqua da questo punto di vista anche perché io come dicevo anche l'altra volta l'elettorato trampiano l'ho legato insomma repubblicano è quello che vede meno di buon occhio la politica estera più bellicosa più che altro perché è il make america great again nel senso un'america che guarda più a se stessa questo è un discorso che potremmo affrontare magari martedì prossimo perché poi toccherà parlarne per forza di cose assolutamente sì anche il fatto che Trump già tempo fa mesi fa abbia detto esplicitamente che tutto sommato capiva le ragioni di Putin molto significativo del fatto che ci sia un pezzo della società americana che è ormai assolutamente ostile all'idea di proiettarsi militarmente ovunque e in generale non sente la necessità di come dire perseguire una politica ultra guerra fondaia e in particolare così russopa per di più se la si guarda sotto il profilo strategico c'è una parte non solo qui di opinione pubblica ma anche degli apparati americani che ha dei grossissimi dubbi sull'opportunità di fare questo frontale con la Russia visto che tutti quanti percepiscono come vero nemico degli Stati Uniti in questo secolo la Cina e quindi nell'ottica diciamo così di prepararsi nel migliore dei modi a quella che è la vera partita di questo secolo per l'impero americano andare a cozzare di testa con la Russia forse forse andandola poi peraltro come abbiamo detto tante volte a lanciare nelle mani esatto della Cina esatto esatto infatti si sta rivelando si sta rivelando un errore spaventoso veramente spaventoso e sicuramente parleremo anche di questo allora io vi saluto intanto invitandovi ad andare sul nostro sito alla sezione partecipa in alto a destra potete qui riempire il form per indicare i vostri dati se volete essere contattati sul territorio se volete avere informazioni insomma se volete magari far parte di una sezione che sta nascendo sul territorio noi vi aspettiamo assolutamente a braccia aperte stanno arrivando tantissimi nuovi attivisti da tutta Italia e questa cosa ci fa assolutamente piacere e soprattutto seguiteci assolutamente sul nostro canale telegram pro Italia trattino sotto org vabbè anche pro Italia trattino sotto org perché è veramente importante che ci seguiate sul nostro canale telegram Ludovico io direi è stata una puntata fantastica abbiamo affrontato un argomento spinoso con un Michelangelo Severnini assolutamente preparatissimo vi invito ancora una volta lo so che l'ho già fatto ma ci tengo veramente perché è un libro straordinario eccolo qua l'urlo di Michelangelo Severnini antidiplomatica edizione lo trovate facilmente online e noi di Pro Italia faremo in modo tale di far vedere a più persone possibili poi il docufilm l'urlo che non a caso è stato boicottato ovunque addirittura dagli stessi produttori quindi questo ti fa capire il livello di pericolosità di determinate verità che dici li mandiamo a dormire e ci vediamo alla prossima assolutamente sì faccio anche un appello oltre a tutti i link che hai già mostrato tu io ricordo a tutti che sul nostro sito si può donare offriteci un caffè offriteci un caffè noi siamo come abbiamo scritto nel sito noi siamo per la lira ma in questo momento ci accontentiamo anche degli euro proitalia.org slash dona un sostegno è assolutamente benvenuto e a questo punto per chi è rimasto ancora collegato devo dire che sono un bel po' invito anche domani ripeto all'evento alla libreria ora felix via reggio 1089 a Roma alle ore 6 parleremo insomma delle radici della guerra in Ucraina e sarà un modo anche questo di affrontare la realtà al di fuori degli schemi del mainstream buonanotte a tutti e alla prossima puntata ciao ciao